Sì, ha già fatto. Sì, ha già fatto. Agadir, agadir Agadir, agadir E' un po' Ma panguio? Sì E' un po' Fino E' un po' E' un po' E' un po' Non so no adopted grazie 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 ciao signore ciao ciao Allora, guarda che bella. 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 Grazie. 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 Ciao. Quanto mi ha detto? 25. 25. 30. 100. 100. 1, 0, 0. Quanto pesa? Quanto pesa? Quanto pesa? 800 grammi. Quanto pesa? 1 kg. 1 kg. 1 kg. E questa? 30. 30, 25. E questa? 1 kg 200. 1 kg? 50. Ah, 200 grammi. Dammi una di queste. E questa? Sì. Perché devo portare un viaggio in aereo. In aereo? Sì. Non c'è? Non è assemblata? In inglese? Non è assemblata... Come l'altra? Così? In blanco. In blanco. In blanco. In blanco. In questo? Riesco a smontarla? In questo? No. A questo? No. No. In questa? In questa? Ha presentato. In questo? È portare un aereo? In quella di chi Facca Unale? Ecco! In questa? Ha portato in baligia! Buongiorno. La colla? Si, la colla non la puoi. Ma non avete una colla che faccio io quando arrivo a casa? No, non ho. E questo non ti entra nella maletta? No, entra però occupa spazio. Se è come quella? Claro, però no. Così? Subito. Questa è buona. Però così. Non lo puoi perché se non si rompe. Se le dà si rompe. Perché sta molto pegato. Questa colla è molto forte. Ok, ok. No, no. Si, 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 si. Stavo pensando come fare. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Io adesso parlo con un amico. Mi lascio una parte. Ok? Ok. Grazie. Grazie. Adesso vedo. Così lui con la cuccia riesce a portarla. Io pensavo che era così. No, no. Facendo. No. No. Poi io, come diceva lui, dopo prendo quello. Dopo. Tu, hai ancora questo? Questo si, tengo. Tengo. Tengo il massimo del tubo. Ok. Ok. Bravo. Grazie. Grazie. Buongiorno. Ah, c'è la, la, la mostra. Buongiorno. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. C'è un po' di più. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie. a tutti. 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 . a tutti. ? . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. per me questo è il risultato il risultato è una cosa che si fa e un problema è una cosa che si fanno questa è una cosa che si fanno la panetta si sono rafforzato si sono rafforzato io vi ringrazio a tutti i nostri amici per il comprobare Ehi amico, quando faremo le foto? Ora, dopo. Ora vieni i miei a comprare probiotici. Grazie. 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 Quanto viene quello per H? Questo? Il polvere? No, grazie. Quanto viene quello per H? Questo? Il polvere? Il polvere? Sì, il polvere. Io ti voglio portare un protettore apatico, probiotico e fischio nasale. Ah, ok. Grazie. Ora facciamo che ci vuole, Juan. Se vuoi altre informazioni per il complesso. Perfetto. Grazie. Io faccio... l'italiano è molto parecido a parlare con il portoghese. Ma il più iscritto è molto... Niente. Niente. Questo? Tu? Ok. Io? Lo busco il distribuidor in Italia. Italia? Sì. Ok. Ok. Ma il sito? Questo? Questo? Ok. Ma questo prodotto è portoghese? Sì. Ok. Questo è tuo? Ok. Io poi dopo? Questo. Questo non ce l'hai piccolo? Ok. 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 Io? Youtuber. Io youtuber. Faccio pubblicità. Ok. Ti rievo? Quanto? Eh, tre giorni. Tre giorni. Grazie. Certo. Quanto? È una piccola copia. 60 euro. Ero. Ero. questo prodotto è un prodotto questo prodotto è un prodotto è importante, provo a cercare e vorrei cercare il prodotto come vedete come vedete come vedete questo prodotto è un prodotto come vedete è il prodotto io ho provato per provare e vi faccio un video e provo a cercare il prodotto il prodotto è un prodotto questo prodotto è questo per il prodotto come vedete questo prodotto è un prodotto questo prodotto è un prodotto questo prodotto è un prodotto come vedete 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 questo prodotto è un prodotto è un prodotto E' un po' di favore, per quanto riguarda il bambino. Buon appetito! Questo è come vedete. Come vedete, ragazzi. Come vedete. Come vedete in mecca. Inshallah, insha Allah insha Allah ecco 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 e una una e una una y vorrei essere ringraziato guarda che mi ha detto sovra grazie produttore dove? Luzio Cardoelis, Vitor Hugo che ha vannato portugese portugese? Luzio Cardoelis e Paolo Martins ok no no Masha'Allah lo so, lo so lo so io allevo Anca, anche Masha'Allah 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 quale lì quanto viene? questo 1000 euro 1000 euro, poco? si perché taglia una taglia mia piccola 11 euro 11 euro questo sono che sono Masha'Allah 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 di Amrila Masha'Allah ho un concorso di Bordeu 5 euro in Porto mi sempre aspettiamo a portare a portare a portare a portare a portare a portare N'aporte quel oiseo C'è qualcosa da favore, parba? Non lo so. Blanche, tette. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, ma lo so. Poi puoi mettere la campagna? C'è un brinco? Non. Non c'è quella che prendra? La spira. C'è un brinco? Non, non c'è un brinco. Non ti serve, non? Ah, non ti serve. Non c'è il brinco. Non c'è il brinco. Non, c'è il brinco, inizialmente. C'è gli altri. Oh. Non c'è il brinco. Non c'è il brinco. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.